bomor 15 anni come dice l'etichetta un scotch whisky che invecchia per 15 anni presso i nostri magazzini di invecchiamento vols number one il magazzino di invecchiamento più antico di scozia è l'unico a trovarsi sotto il livello del mare un whisky che per i primi 12 anni di gestazione invecchia in botti ex bourbon proveniente dalla distilleria makers mark di loretto in kentucky e successivamente gli ultimi tre anni in botti europee di ex sherry oloroso queste botti conferiscono la sua caratteristica principale questo colore chiamato darkest vedete questo bel colore ambra scuro un naso che sviluppa note di erica in questo caso di miele ma soprattutto di cacao e di caramella toffee in bocca un sorso pieno un sorso che ci regala queste sensazioni ancora più marcate di tostatura di cacao di caramella toffee e soltanto sul finale questa leggera torbatura data appunto dalla affumicazione che fa il nostro malto con la torba di nostra proprietà ciao 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 ciao